Simone! 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 Simone, tocca a te! E' accompagnato questa versione? I filmiche sono sempre il numero uno! Roccao! Peace and love! Sono il numero uno! E anche il Papi, che è là dietro! E anche la Mami, che andrà da sola! E via! E anche il nostro cuore! Eccoci! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti